Ho sette colpi, aspetta, beh prendiamo il quadro, ho capito dove cazzo stavano sparando Spartan, vedo l'ho visto io, socio nella porta, quella casa a due pianigliano nella porta di sinistra, è un veicolo in avvicinamento, non ho capito, ok, era alleato, Cori, i'm gonna come to revive you, but don't fucking friend the fire ever again. No, non ci sono stato. Soscio, soscio. Bye, bye. Sei con Spartan. Voi buhoi. Ragazzi ma se noi tipo gli inventori su quad cosa hanno consumato tutto? Cazzo state facendo babbi? Vecchio, non c'è nessuno qua. Segui. Dammi un attimo. Allora, c'è Arika, possiamo... Lo svolte ci sparano da dove? Io no, io ero sulla mappa, ero sulla mappa. Guarda Reaper, Reaper è sdraiato sul quadro. Oh. Io vedo ri... Perché mi devo cura? Vecchio. Allora, ascoltami un attimo, ho un piano. Purati e andiamo. Pusciamo la flag, però. Io vedo tipo Reaper con Ficcator, ecco. Under fire! Artilleria, via da qua. Entra, testa di cazzo. No, non vuole, via. Testa l'ho sentito. Continua via zizzag. Lascia listare. No, veramente va... La velocità è giusta. 87 va. No, 67, scusa. Ed è per questo che guida moi. Sì. Andiamo. È meglio che vi sbrigate. 2. Return to formation. 3. Report in. Over. Secondo me sposo il quadro. Arrivo. Arrivo il salto. È preso qualcosa di grosso. Non... C'è un mezzo, non venire, prendi il... C'è un... Qualcosa di molto vicino e di pesante. Cazzo vuol dire... Non c'è niente qua sopra la foresta. Sì. Ma dov'è cazzo? C'è? Cazzo. Aspetta, aspetta. Oh, questo sarà carino. Aspetta, aspetta. Non rispaunate. Sì, è ancora su. Incredibile. Sta riparando. Aspetta. Sì. Arrivo. Long range. Mi metto giù. Ehm... Sì, non lo s... Il che mi preoccupa anche. Perché cazzo mi smicca. Sì. Sì. Spawn. Però due missili ho tirati. Sì, ragazzi abbiamo... Abbiamo creato un... Il pane. Riturna la formazione! Riturna base. Devo rifornire missili. Dove spawnate? In base. Dov'è la base? È quella... Allora... Sempre quella dove c'è stata prima. Ehm... Portland. Sempre l'ennesima. 3! Form on me! Quella dove poi fai... Move to... Sì. Mmm... Che non c'è. Fai gear... Sai che ma... Vehicles? Io ho 21.000. Io ho 30... Ho 40... 40.000. Adesso mi compio prezzo. Ehm... Mmm... No, no, no! No! Lascia ancora 3.000. Fai ancora 3.000 soldi... E compriamo le... 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 lì d'assalto. E compriamo Blackfoot. Soprattutto perché ho speso dei soldi e il missile non c'è. Perché non ho il missile? L'ho detto a Sire Z. Eh? A volte si resetta. A volte si resetta. Titan AT. Uno. Due. Quindi... quindi... L'ho comprato ma non... Vabbè... Buy gear. Lo devi avere spazio nell'inventario. Magazine. Lo zaino è vuoto. Mmm. Titan AA. No, Titan AT. Sì. Dammi una tutta. Titan Inventory. Sto comprando ammo e tutto. Quali... devo... quali sono le mie ammo? Mmm. Si chiamano? Si chiamano? Ehm... Rent Around MX Rifle. I'm out! Rent Around MX Rifle. Sono tipo all'inizio. Unno. Segui... Let's... No. Unno. 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 Ho già capito Va dietro questa collina Oh raga subito subito con il titan Su mezzo Oh cazzo eccolo E' andato E' andato Uno è andato Sì sì c'è andato C'è un altro c'è un altro Occhio Oh Cazzo cazzo Sparano Sparano Merda Tira li tira li mi fa Cazzo c'è un carro davanti Aiuto Aiuto Ragazzi 3-0-8-4-2-5-1 Lo ho fatto Lo ho fatto Questo non si libera Non riesce a rimanere Sì C'è un altro ma non so dove Dove cazzo si è morto Arrivo Dovevo per sparare River Sei sopra di venerdì Non ho fatto i medici Non ho fatto i medici Non posso Non me lo puoi Sì Sì Sì